Sabato 25 maggio alle ore 18 in Piazza Lucia, Santa Maria di Castellabate, si terrà la proiezione e la cerimonia di premiazione dei video realizzati dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Castellabate per la prima edizione del progetto Castellabate Film Festival. La piazza diventerà per un intero pomeriggio un vero e proprio villaggio del cinema, grazie all'iniziativa realizzata dall'assessorato alla pubblica istruzione del Comune e portata avanti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Castellabate, la film studio di Agropoli. Gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei cortometraggi e degli spot nel corso dell'anno scolastico. Il prossimo 25 maggio i film verranno proiettati durante un evento condotto da Enrico Nicoletta, responsabile dell'Ufficio Turistico del Comune di Castellabate e da Raffaella Giaccio, giornalista televisiva e votati da una giuria di esperti composta da registi, insegnanti, produttori e operatori culturali. Progetto ambizioso e un progetto coinvolgente direi perché ha toccato il nostro istituto comprensivo e quindi tutti i bambini che si sono adoperati in questa esperienza nuova che spero possa continuare a diventare una tradizione e una consuetudine negli anni e possa consolidarsi sempre di più perché ha dato la possibilità a tanti bambini di toccare con mano, di sentirsi protagonisti nel vivere, nel raccontare le storie su temi importanti come l'ambiente e ha dato a loro la possibilità di vivere per un momento da protagonisti e quindi bello perché ha dato questa possibilità e poi soprattutto le tematiche, le tematiche trattate che sono particolarmente importanti, attuali, l'ambiente, capire, conoscere l'ambiente che ci circonda, capire la dinamica della nostra società attraverso il web e capire oggi i sistemi di comunicazione, avvicinarsi anche alla cinematografia essendone allo stesso tempo attori, interpreti e anche autori perché raccontano le loro storie alla fine. Quindi diciamo io credo un'esperienza molto significativa, costruttiva, educativa che assolutamente va ripetuta e per questo non possiamo non invitare tutti quanti a partecipare, a seguire il 25 alle ore 18 in Piazza Lucia a questa prima edizione dove avremo la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la comunità oltre che del nostro istituto comprensivo.